Ecco l'allenamento della Juniors Nazionale dello Stomare, una ripresa di una settimana di allenamento in vista della sfida interna con l'Anzio Lavigno di sabato. Andiamo al centro del campo, il tecnico Paolo Cesaroni che osserva i suoi ragazzi mentre si allenano con il pallone. Grazie a tutti. Grazie a tutti.